Senti, Rosa e qualche ascoltatore dicono Avevo letto da qualche parte che Mika da ragazzo era dislessico Is it true? Sì, sono molto dislessico Lo sai ancora? Sì, ancora E nonostante questo farli... Questo non cambio, sfortunatamente Sì, io sono... Sì, non posso scrivere con un... Con un... come si dice? Un bolly Con una penna? Con la penna, solo con il computer Sì, ma anche alla scuola... E quindi come hai fatto da piccolo? Ho fatto male Ho fatto... ho cambiato scuola tre volte Dove sei andato a scuola? In che paese? Primo in Francia E dopo in Inghilterra Mi hanno... Bociato Bociato la scuola in Inghilterra E dopo ho iniziato a fare la musica La musica per me ha cambiato tutto Perché con la musica Ho... ho potuto fare qualcosa di buono Senza pensare che io sono solo stupido Hai trovato... bravo Hai trovato più fiducia in te stesso Sì, sì E dopo... dopo di fare la musica Dopo di lavorare nella musica Da undici anni Il mio primo job Era quando avevo undici anni In... in l'opera Una opera di Strauss a Londra E cosa facevi? Cantavo Cantavo A undici anni? A undici anni In fazzetto In fazzetto Cantavi Sì Sì Ah ecco così In l'opera reale di Londra Sì Ma dopo la scuola è stata... È stata? È stata un po' più tranquilla per me Quando la musica ti ha fatto capire Che comunque Eri un ragazzo con un grande potenziale Ma lo sai che non posso leggere Un orologio Ma mi piacciono tanti gli orologi E sto facendo un orologio con Swatch Non puoi nel senso che non ci riesci? Non riesci a leggere Non riesce Non riesco Però ne stai disegnando uno per Swatch Una per Swatch Ma non posso leggere E sto Lo rollo